Posti barca affittati in nero e spesso all'insaputa dei proprietari, sarebbe questa la motivazione che ha portato all'allontanamento dal marina di Porto Cervo del direttore Michele Azzara, il nostro uomo Dorino Firinaio e due impiegati amministrativi. La notizia è stata riportata oggi da una testata online specializzata in nautica, solo VelaNet. Nel sito web si parla della scoperta di un giro di corruzione senza precedenti nel porto turistico del nord-est della Sardegna, meta degli armatori più importanti del mondo. Non è noto il volume del giro d'affari, ma con molta probabilità deve essere di parecchia centinaia di migliaia di euro, visto che per un ormeggio si possono superare i 4.000 euro a notte. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni della Costa Smeralda Holding, che ha anche ingaggiato una società di investigazioni che ha scoperto un giro d'affari in nero della società che gestisce il marina Porto Cervo. Dopo l'allontanamento dei dirigenti, sembra inevitabile a questo punto l'entrata in scena della magistratura.